Questo è il fiumiciattolo che forma la cascata, la cascata di Cavalese o gazzolino, questo è il pezzo del gazzolino si chiama questa zona qua, tutte le rocce foderate di muschi, è il video eh? Ma che spettacolo qua sotto, ah va, giù c'era un bondo là. Qua è bellissimo, non me lo ricordavo, siamo passati due o tre volte e non ci siamo venuti mai qua su. Tutto muschio. 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 Grazie.